Ecco l'entrata in campo delle due squadre, la dodicesima gara di andata, Virtus Castelfrentano, Rapino Calcio. Il Rapino Calcio con la classica divisa nero-verde e la Virtus con la classica divisa giallorossa, il direttore di gara è al suo esordio, Caffiero Pio Francesco, della sezione Aglia di Lanciano. Adesso c'è lo scambio del pallone. Ecco si vanno a salutare con le rispettive panchini, mister. Ecco si stanno salutando. Campionato provinciale categoria giovanissimi, Girone Chieti. Grazie. Grazie. Grazie.